Con la campagna di solidarietà, scontagiamoci, in 45 giorni sono stati raccolti 223.463 euro dal 16 marzo al 30 aprile scorsi. L'iniziativa di solidarietà, nata dal desiderio di un imprenditore e di un professionista, amici e sostenitori del gruppo di volontariato e protezione civile, insieme alla sezione di Campobasso dell'AMPS, Associazione Nazionale della Polizia di Stato, ha permesso l'acquisto di materiali e attrezzature sanitarie indispensabili per la cura del coronavirus. Con i fondi raccolti sono stati acquistati 16 ventilatori polmonari, 500 mascherine protettive FFP2, 70 caschetti protettivi con visiera, 11.600 mascherine di comunità. La nostra è stata una iniziativa concreta che, oltre ad aiutare il personale sanitario del nostro Morise e quindi i nostri corregionali colpiti da coronavirus, non ha dimenticato le esigenze dirette della comunità e delle famiglie, hanno dichiarato i promotori della raccolta di solidarietà.